Musica Buon pomeriggio, ben ritrovati. Il nostro primo appuntamento con l'informazione del TG Oggi. In primo piano la cronaca con il maxiblitz messo a segno dai carabinieri del reparto di Nocera Inferiore su disposizione della direzione distrettuale antimafia. Un colpo che va a ferire i clan che operavano nel territorio tra l'agronocerino e l'area di Pompei e Castellammare dediti soprattutto a usure, distorsioni e danni di imprenditori e commercianti. Vediamo i dettagli nel servizio. Fa seguito all'arresto avvenuto nel settembre del 2015 di un gruppo di esponenti del clan Ridosso Loreto l'operazione della direzione distrettuale antimafia della procura di Salerno con la quale oggi i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno dato esecuzione a 16 misure nei confronti di altrettante persone accusate di associazione camorristica, estorsioni, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria ed intestazione fraudolenta di società. Grazie anche alla collaborazione di alcuni pentiti sono emersi dalle indagini stretti contatti tesi ad una spartizione del territorio di Scafati e dell'area di Pompei tra due clan attivi in zona, il gruppo Loreto Ridosso di Scafati, il sudolizio Matrone e Cesarano di Pompei e Castellammare di Stabia. I gruppi tra il 2004 e il 2016 avevano avanzato anche con metodi violenti richieste di denaro ad imprenditori del settore conserviero e commercianti. Erano soliti recarsi a chiedere il denaro in occasione delle festività Natale, Pasqua, Ferragosto. Chi si rifiutava veniva picchiato come accaduto al custode del parcheggio del centro commerciale Plaza dove i clan avevano imposto il servizio di pulizie attraverso la creazione di tre imprese societarie intestate a prestanomi che sono state sottoposte a sequestro preventivo. Nel mirino anche la sala bingo di Scafati e diverse attività commerciali alle quali la richiesta di denaro poteva essere avanzata anche sotto richiesta di cambiare degli assegni o direttamente prelevando merce dai magazzini come è accaduto per degli abiti firmati. Nel corso delle perquisizioni eseguite questa mattina sono stati trovati soldi ed anche un fucile. Tra i destinatari del provvedimento di oggi, che ha visto al lavoro anche il Gico della Guardia di Finanza di Salerno, figurano l'attuale reggente del clan cesarano, Luigi De Martino, detto gigino o profeta, Michele Matrone, il figlio dell'ergastolano Francesco, detto a Belva, nonché Andrea Spinelli, già arrestato nello scorso mese di novembre per analoghi episodi estorsivi. Sentiamo dalle parole di Corrado Lembo il commento all'operazione. Il procuratore lancia un appello anche agli imprenditori che all'inizio hanno mostrato omertà rispetto all'indagine che cercava di inchiodare i loro aguzzini. Corrado Lembo, quello che emerge sono gruppi criminali di antica tradizione che si riciclano anche in nuove attività? Sì, possiamo dire così, ma anche gruppi che provengono da altre aree della regione, sia pure contigue, con una penetrazione che costituisce una caratteristica della criminalità organizzata di stampo mafioso, che è proprio l'horror vacui, dove c'è un vuoto si cerca subito di coprirlo. Se c'è una perdita di controllo da parte di un clan in un territorio, c'è subito un altro clan di confine che cerca di occupare quella zona. E quello che è accaduto nell'agronocerino sarnese in questi ultimi tempi, i colpi delle forze dell'ordine della magistratura sono stati continui e direi quasi ininterrotti. Per cui, ecco, non dico che si è favorito, ma si sono poste le condizioni oggettive perché altri clan aspirassero al controllo del territorio. E questo in parte è avvenuto attraverso alleanze, solidarietà antiche e più recenti. e noi dobbiamo lavorare su questo. La procura di Salerno presta la massima attenzione alle aree di confine, tra il salernitano e il napoletano. Abbiamo sentito però da parte sua un po' di rammarico per il fatto che gli imprenditori sotto estorsione non hanno collaborato subito dall'inizio. Vabbè, questa è una caratteristica delle indagini sulla criminalità organizzata. La criminalità organizzata vive e prospera proprio grazie all'omertà. E l'omertà non soltanto dei suoi componenti, ma anche purtroppo dobbiamo aggiungere delle vittime dei reati che fanno da scuso incredibilmente ai loro aguzzini. Io capisco che vi possono essere delle paure, ma ora non c'è più una scusa valida. perché non si può dire che lo Stato non ha fatto nulla per le vittime dei reati. Sono cambiati i tempi dall'epoca di Falcone, in cui giustamente Falcone diceva che non si può pretendere da cittadini inermi di combattere da soli la mafia. Erano le forze dell'ordine e sono le forze dell'ordine, la magistratura, che devono prestare il petto al nemico. Però oggi ci sono delle misure legislative, ma anche di ausilio economico per le vittime dei reati. Per cui un cittadino onesto si deve far scudo della legge. E a margine della conferenza stampa, oggi Corrado Lembo è intervenuto di nuovo anche sulla vicenda delle fonderie Pisano. Dopo il dissequestro dell'azienda, la Procura ha presentato appello in Cassazione tra un mese l'udienza. Telenovella Pisano. Come era fin troppo facile immaginare, dopo la riapertura dello stabilimento di Fratte decisa dal Tribunale dell'esame, la Procura di Salerno, che ne aveva disposto la chiusura, sta già preparando il ricorso per impugnare lo stesso provvedimento davanti alla Cassazione e chiedere nuovamente i sigilli per lo stabilimento di Fratte. L'udienza però non sarà fissata prima di un mese. Sotto esame c'è la normale tollerabilità delle emissioni delle fonderie, quelle che il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto palesemente superate dalle emissioni della fabbrica, tanto, da determinare il sequestro e la successiva chiusura e che invece per il Tribunale de'esame, che ha invece ribaltato la decisione, non basta per mettere in discussione il dato oggettivo degli ultimi rilievi ARPAC, secondo cui il livello di inquinamento è contenuto entro i limiti imposti da leggi e autorizzazioni. Tanto più si legge nel provvedimento firmato dai giudici che hanno disposto il dissequestro dell'Episano che alcune segnalazioni dei residenti su fumi e odori non hanno trovato riscontro nelle verifiche della Polizia Giudiziaria sul posto. Sarà allora proprio su queste motivazioni che la Cassazione sarà chiamata a pronunciarsi, a decidere chi tra la Procura e il riesame è nel giusto, oltre che decidere poi sulla legittimità dell'AIA l'autorizzazione integrata ambientale emessa dalla Regione Campania, che per la Procura è frutto di un abuso d'ufficio, mentre per i giudici del Tribunale dell'esame è elemento talmente tanto controverso da non poter costituire presupposto di reato. Sono i mezzi di impugnazione dei provvedimenti dei giudici che noi rispettiamo, anzi abbiamo apprezzato l'equilibrio e il tanto anche nella forma, oltre nella sostanza, il provvedimento. Ma tuttavia la tesi della Procura è molto chiara, direi limpida da un certo punto di vista, cioè dal punto di vista della legge. Ci sono due questioni, una è quella che afferisce alle immissioni nell'atmosfera di eventuali gas o comunque residui nocivi e questo potrebbe essere su stato superato dalle misure tecniche che sono state adottate per impedire queste emissioni. Poi occorrerà verificare di volta in volta sempre il mantenimento degli standard di sicurezza. Ma c'è un'altra questione che è sul tappeto, è quella che riguarda proprio l'autorizzazione, la legalità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impresa. Su questo versante stiamo esaminando il provvedimento dei giudici per anche una questione di coerenza, non per accanimento accusatore, ma per una questione di coerenza, di impostazione del nostro punto di vista, che è un punto di vista secondo me di legalità che va tutelato perché attraverso la legalità si tutelano i cittadini che invece osservano puntualmente le regi e che ottengono legalmente le autorizzazioni. E adesso una storia tremenda che arriva da Monte Corvino, Rovella, dove madre, padre e due amici della coppia, sono accusati di aver abusato di tre fratellini, due maschietti e di una femminuccia. Per questo complessivamente dovranno scontare 50 anni di carcere. Sentenze esemplari sono state combinate dai giudici della terza sezione penale del Tribunale di Salerno sul clamoroso caso di pedofilia registrato nel comune di Monte Corvino, Rovella, nel 2011, quando due maschietti e una femminuccia, all'epoca tra i 5 e i 13 anni, vennero coinvolti in una squallida storia di giochi erotici e abusi. Condannato a 13 anni di carcere, il padre, che abusò dei figlioletti, consegnandoli anche nelle mani di altri pedofili. 12 anni e mezzo per la mamma, che sapeva e non ha mai fatto nulla per impedire l'orrore, partecipando anche lei a una parte della violenza. 10 anni e 4 mesi ai due amici del padre, un 51enne e un 57enne. Nella sua requisitoria il PM Roberto Penna aveva chiesto che il papà fosse condannato a 15 anni, anche per la lesione della milza provocata alla moglie, con un calcio quando era incinta di un quinto figlio, una bambina a cui quel colpo avrebbe causato gravi lesioni al cervelletto. Da questa accusa l'uomo è stato assolto, mentre per il resto i giudici hanno confermato in pieno l'impianto della procura, ricostruendo uno scenario di abusi ripetuti, in cui il padre dei bambini avrebbe aperto le porte di casa ai pedofili, partecipando alle violenze e costringendo i figli anche a compiere atti sessuali tra loro. La sentenza che ieri ha definito le condanne ha pure disposto per i quattro imputati l'interdizione dei pubblici uffici e accolto le richieste delle parti civili, rappresentate dagli avvocati Agostino Allegro, Maria Gabriella Gallevi e Raffaele Potolicchio, che hanno ottenuto per i bambini una provvisionale di 100.000 euro a garanzia del risarcimento del danno da quantificare in sede civile. Il pubblico ministero ora chiederà l'autorizzazione a una riapertura dell'inchiesta per cercare di risalire all'identità di una persona la cui presenza agli incontri è stata testimoniata dal disegno di uno dei bambini, che nel raccontare uno degli episodi ritrae il padre accanto a lui e alla sorellina, mentre altri tre uomini erano distesi, nudi sul letto. E la procura di Salerno ha aperto un fascicolo di inchiesta carico di un giovane appena 18 anni e scritto sul registro degli indagati. Reo di aver diffuso attraverso Whatsapp una fotografia che ritraeva la fidanzata appena 14 anni, nuda di spalle, mentre leggeva un libro distesa sul letto. Il procedimento inizialmente si era concluso con una richiesta di archiviazione sul presupposto che nella diffusione della fotografia anche la ragazza avesse avuto un ruolo da protagonista e che quindi lei sarebbe stata responsabile delle conseguenze che ne erano venute. Una tesi che però non è stata condivisa dal giudice per le indagini preliminari Pietro Indinimeo, che ha rigettato la richiesta di archiviazione del procedimento e disposto per il ragazzo l'imputazione coatta. Il pubblico ministero dovrà quindi formulare su malgrado una richiesta di rinvio a giudizio dove la 14enne e la sua famiglia potranno costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento dei danni. Nei prossimi giorni il pubblico ministero Stefania Buda, titolare dell'inchiesta sulla presunta estigazione al voto di scambio per la quale risulta iscritto nel registro degli indagati il governatore Vincenzo De Luca, procederà all'interrogatorio di alcuni testimoni presenti in quel giorno alla convention dell'hotel Ramada di Napoli. Il magistrato dovrebbe ascoltare in particolare esponenti del comitato per il sì al referendum per la riforma costituzionale, gli organizzatori dell'incontro e anche alcuni sindaci che presero parte alla riunione. Immancabili commenti su quanto sta avvenendo per il sindaco di Napoli, l'ex magistrato De Magistris. Si tratta di un atto dovuto che si accerti quanto accaduto in campagna elettorale, indipendentemente da esposti. È corretto che ci siano verifiche, si sa, aggiunge, che quando si fa dialettica politica si eccede, certe volte si va sopra le righe, ma prendo le distanze dal metodo, dal contenuto e dalle forme di alcune persone che hanno tentato di orientare verso il sì. Secondo il senatore Maurizio Gaspare di Forza Italia invece la procura non deve limitarsi a un'indagine, deve mettere questo personaggio in condizione di non nuocere più, rappresentando un pericolo per i campani e la democrazia. Per Ermete Realacci del PD, Vincenzo De Luca è stato ed è un grande amministratore, ma il linguaggio che ha usato è inaccettabile, anche se lo fai per scherzo, dice Relacci, perché questo è come quelli che urlano cose violente contro la politica e poi si arriva a qualcuno che fa i fatti. Andiamo adesso a Cava dei Tirreni. Dal 1 marzo 2017 il servizio differenziata nel comune metelliano sarà gestito dalla Metellia Servizi che andrà ad assorbire anche i 28 operai attualmente in servizio presso il cantiere del consorzio di Bacino Salerno 1. Resta ancora da sciogliere il nodo dei lavoratori indiretti, ovvero dei sette dirigenti amministrativi che il consorzio in liquidazione vorrebbe traghettare verso la società. Dopo mesi di rinvie e polemiche, dal 1 marzo 2017 il servizio di raccolta differenziata a Cava dei Tirreni sarà gestito soltanto dalla Metellia Servizi. Infatti l'Aggiunta Servalli, riunitasi ieri mattina, ha autorizzato la Metellia a porre in essere tutte le attività necessarie. Tuttavia si tratta di un affidamento in via provvisore in attesa dell'attuazione della legge regionale che disciplina l'intero ciclo dei rifiuti e dell'individuazione del gestore del servizio integrato da parte della nascente autorità d'ambito. In questa prima fase quindi l'affidamento avverrà fino al 30 giugno, tenendo conto dei costi di start-up alle stesse condizioni economiche praticate dal consorzio di Bacino e che a partire dal 1 luglio 2017 il canone verrà rideterminato congiuntamente tra le parti tenendo conto delle presumibili economie derivanti dall'efficientamento del servizio a gestione unificata con conseguente predisposizione di un nuovo atto convenzionale. Inoltre l'amministrazione comunale ha deciso di concedere in locazione alla Metella Servizi un'area di circa 1300 metri quadri adiacente al civico cimitero in via Ugo Foscolo. Infatti lo scorso 21 novembre, nel manifestare la propria disponibilità ad effettuare il servizio essendo dotata di tutte le autorizzazioni, la società in house dell'ente ha rappresentato all'amministrazione comunale l'esigenza di reperire una nuova struttura idonea ad ospitare il cantiere per automezzi e personali, essendo insufficiente quella attualmente esistente nei pressi del cimitero. Dopo le due proroghe trimestali concesse ad agosto e a novembre si avvicina quindi l'unificazione del servizio di raccolta differenziata che sarà ad appannaggio della Metella Servizi che assorbirà anche i 28 operai attualmente in servizio presso il cantiere del consorzio di Bacino. Resta da sciogliere ancora il nodo degli indiretti, ovvero dei sette dirigenti amministrativi che il consorzio in liquidazione vorrebbe traghettare nella società metelliana. Il comune di Castellabate inaugurerà domani in via Maroccia una infrastruttura fondamentale nella gestione dei rifiuti l'isola ecologica, un nuovo centro di raccolta di rifiuti urbani smistati in maniera differenziata. Per i conferimenti l'isola ecologica sarà attiva in orario continuato. Con l'inaugurazione dell'isola ecologica, si legge in un comunicato, si darà ufficialmente il via al processo della raccolta differenziata gestita direttamente dal comune che attraverso il proprio personale garantirà un servizio permanente anche di accoglienza ai cittadini. Presso la nuova isola ecologica potranno essere consegnati da tutti coloro che sono residenti nel comune da attività iscritte a ruolo tari e muniti di documento di riconoscimento, carta, plastica, vetro, legno, metalli e altri generi di rifiuti. Domani al Teatro Giuseppe Verdi di Salerno si terrà il concerto per gli auguri di Natale organizzato dalla Procura della Repubblica di Salerno. La solidarietà incontra la musica domani sera grazie al concerto per gli auguri di Natale organizzato al Teatro Verdi di Salerno dalla Procura di Salerno. L'obiettivo è raccogliere fondi per aiutare il Banco Alimentare Campania Onlus. L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di più enti e istituzioni che hanno affiancato la Procura di Salerno nell'organizzazione e nella realizzazione del progetto. Il Comune di Salerno, il Teatro Verdi, il Giffoni Experience e il Conservatorio Martucci di Salerno. Gli spettatori potranno devolvere una libera offerta e contribuire così all'acquisto di un sellevatore elettrico. L'orchestra sinfonica Giuseppe Martucci di Salerno, diretta dal maestro Massimiliano Carlini, e il coro del Conservatorio Martucci diretto da Maria Cristina Galasso, eseguiranno un concerto di musica classica che spazierà da Verdi a Puccini, da Mozart a Pablo de Sarasat, da Pablo Sorozabal ad Eduard William Elgar. Parliamo adesso di un'altra iniziativa che verrà inaugurata sempre domani in Villa Carrara a Pastena. Venerdì parte l'iniziativa organizzata dalla CLAI. I dettagli nel servizio. Alberi natalizi, ghirlande di benvenuto, candele, centrotavola, graziosi oggetti e selezionati decorazioni porteranno il Natale in Villa. Si chiama così l'iniziativa organizzata dalla CLAI di Salerno, la Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, presieduta da Gianfranco Ferrigno, che sarà ospitata dal 16 al 18 dicembre nella Villa Carrara di Pastena. Nuove idee, creazioni artigianali, allestimenti per colorare il Natale, un'occasione per promuovere maggiormente il commercio nella zona orientale della città di Salerno. Con queste parole è stata presentata la Tre Giorni, che trasformerà il giardino dell'ottocentesca dimora nobiliare, oggi spazio pubblico situato nel quartiere di Pastena, in un luogo magico dove le mani esperte dei migliori fioristi salernitani realizzeranno uniche ed originali decorazioni floreali natalizie. Il taglio del nastro domani alle 17, mentre sabato e domenica l'esposizione resterà aperta dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 21.00. Una sezione speciale sarà anche dedicata ai bambini. Il primo anno che la facciamo, quindi sarà sperimentale quest'anno e diventerà definitiva dal prossimo. Abbiamo preso la location in una delle ville presenti in città, che è Villa Carrara, come tutti i tre ispettori di Salerno, è una villa dell'Ottocento molto bella ma poco conosciuta. Soprattutto il giardino, che è un bel esempio di giardino mediterraneo. E va visitata, va vista, va curata e va amata. Mercianti di Pastena un po' coinvolti da me in prima persona, perché diciamo che ho fortemente voluto questo evento in Villa Carrara, proprio perché spesso questa villa è dimenticata, o meglio direi quasi sconosciuta, soprattutto dai commercianti dell'Azio Orientale e degli abitanti dell'Azio Orientale. Abbiamo avuto questo evento proprio per animare la villa, per far conoscere la struttura ai cittadini di Salerno e per coinvolgere molto le famiglie, le famiglie con i bambini, quindi è prevista tantissima animazione per i bambini, ma anche diciamo qualcosa che possa coinvolgere il pubblico adulto. Andiamo adesso ad Agropoli, città che va, i polemiche che trovi al centro sempre le luminari allestite, questa volta nella cittadina cilentana, sul piede di guerra alcuni commercianti. Buio d'artista in Via Sampio X ad Agropoli. I commercianti di una delle principali strade cittadine hanno deciso di manifestare in maniera ironica il loro dissenso per la scarsa illuminazione della città, che ad oggi non vede coinvolte alcune strade, tra cui appunto Via Sampio X, quella che congiunge il centro cittadino con la località Marrota. Da alcuni giorni infatti stanno circolando nelle attività commerciali e sui social dei volantini con l'immagine di una candela e la scritta Buio d'artista in Via Sampio X, 8 dicembre, 6 gennaio. Dietro l'ironia però si cela grande malcontento, considerato che lungo la strada insistono numerose attività commerciali. Ma le polemiche in realtà sono diffuse anche in altre zone. Proteste arrivano da Via Dante Alighieri, Via De Gasperi e Piazza Garibaldi in piena isola pedonale. Se infatti il corso è illuminato con la galleria luminosa, anch'essa non esente da critiche, la piazza è addobbata soltanto con l'albero di Natale. Ormai è tardi per intervenire, dicono alcuni cittadini, i quali si aspettavano che con un investimento di 40.000 euro la città avesse senz'altro una veste diversa. Da Palazzo di Città però precisano che l'illuminazione della città non è ancora stata completata. C'è stato un ritardo dovuto alla ditta poiché si è trovata la merce bloccata nel porto di Salerno, ha spiegato l'assessore Eugenio Benevento. Già ieri si è provveduto però all'installazione delle luminarie in Via Piave e Via Alcide De Gasperi ed oggi provvederemo anche in Via San Pio X e poi in Piazza Vittorio Veneto. Avevamo immaginato una tempistica diversa, conclude Benevento, tuttavia cercheremo di riparare già entro i prossimi giorni. Sempre ad Agropoli nei giorni dal 26 al 28 dicembre si rinnoverà il miracolo della nascita di Cristo con la 37esima edizione del Presepe Vivente. L'evento, uno dei più caratteristici del territorio, è organizzato dalla Proloco Sviluppo Agropoli e dal Forum dei Giovani Insieme a tante associazioni del territorio e si svolgerà in un'ambientazione unica il centro storico di Agropoli. Qui per tre sere sarà possibile immergersi in una tipica atmosfera medievale dove il tempo sembrerà essersi fermato. Il visitatore potrà fare un salto indietro nel tempo che lo accompagnerà tra piazze, vicoletti, locande e botteghe fino alla capanna dove nacque Cristo quest'anno apposizionata all'interno del castello Angioino a Ragonese. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria. La nostra informazione prosegue tra poco. Restate con noi. Andiamo adesso ad Eboli dove una vera e propria festa ha accolto l'apertura del nuovo supermercato Lidl che oltre a dare occupazione a tanti giovani della provincia di Salerno permette anche di restituire alla città di Eboli un'area che era degradata e che con la nascita del supermercato è stata completamente riqualificata come ha evidenziato al taglio del nastro il sindaco Massimo Cariello. C'era attese ed entusiasmo per l'apertura avvenuta stamani alle 8 del nuovo supermercato Lidl ad Eboli, il quarto della catena multinazionale della grande distribuzione che nasce nel territorio della provincia di Salerno. Un fiume di persone e di sorrisi dei nuovi giovani occupati che hanno preso servizio nella struttura di via Ludovico da Casoria hanno accompagnato il sindaco di Eboli Massimo Cariello nel taglio del nastro al supermercato che sarà aperto dal lunedì alla domenica con orario continuato dalle 8 alle 21. Nella struttura di Eboli, circa 1000 metri quadrati di superficie, Lidl ribadisce quelli che sono tutti i nuovi concetti legati alla vendita e all'insegna del rinnovamento. Il nuovo reparto panetteria e tutti gli altri settori sono distribuiti in corsie ampie e luminose, accessibili, visivamente efficaci e rendono l'esperienza d'acquisto del cliente più veloce, razionale e piacevole. Il supermercato inoltre è green grazie ad un impianto fotovoltaico che lo alimenta. Questo punto vendita è un impianto fotovoltaico da 35 kilowatt, abbiamo utilizzato materiali altamente coibentanti e sfruttato, come potete vedere, delle vetrate molto ampie per sfruttare la luminosità interna. Questa apertura di Lidl significa anche la creazione di 10 posti di lavoro. Sul piano ambientale va anche sottolineato un altro aspetto sul quale si è soffermato il sindaco di Eboli nel tagliare il nastro al supermercato che sorge dalla riqualificazione di un'area degradata. Sicuramente significa opportunità occupazionale, una riqualificazione di un'area che era totalmente abbandonata e degradata ed è stato forse uno dei primi atti che noi abbiamo fatto come amministrazione comunale nell'approvazione di un subambito di un PUA che era totalmente accantonato da qualche anno e invece ritenevamo importante, questa è la risposta che ci aspettavamo, a cui poi seguiranno anche altri interventi importanti, di fronte stanno creando quindi un terminal bus importante, quindi ad uso pubblico e poi ci sono altri investimenti nella zona. Questo va a riqualificare l'area importante di un quartiere che è quello del Paternino della pace che è stata abbandonata e del Grado Operano, quindi questo è un motivo in più oltre poi a livelli occupazionali significativi per la nostra città. Sugli scaffali del nuovo punto vendita ci sarà un ampio assortimento con circa 1800 prodotti per rispondere alle esigenze dei propri clienti, oltre l'80% sarà made in Italy, in particolare la linea Italiamo. Il nostro assortimento punta sempre di più verso l'italianità, la nostra linea Italiamo è una linea che esprime l'eccellenza della gastronomia italiana e quindi anche di tutti i prodotti che sono tipici regionali. Il nostro assortimento si compone in generale di circa 1800 referenze delle quali l'80% circa è comunque made in Italy. A completare l'offerta proposta da Lidl che per il quarto anno consecutivo ha vinto il titolo di miglior supermercato d'Italia ci sono i prodotti a marchio deluxe, quelli privi di glutine, 27 categorie, dall'abbigliamento all'elettronica. Il tutto naturalmente con la caratteristica che ha fatto il successo di questo marchio, buona qualità a costi contenuti. Stiamo sviluppando prodotti sempre più innovativi, di altissima qualità, senza però rinunciare alla convenienza che ovviamente fa parte del nostro DNA per andare incontro sempre di più alle esigenze di tutti i nostri clienti. Bene, adesso la nostra rubrica degli appuntamenti. Natale insieme a Ponte Cagnano-Faiano, tanti eventi per la rassegna promossa dal comune di picentini, mercatini, animazione, gusto, shopping e serate a tema, musica e di intrattenimento. Emozioni e divertimento in una città tutta da vivere. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Ci sono le previsioni del tempo subito dopo le quali vi aspetto con l'informazione sportiva. A Natale ci regaliamo un grande TV. E regala tua mamma. Tranquilla, da Expert per ogni 100 euro di spesa, 20 euro per te. E paghi tutto a tasso zero in 10 o 20 mesi. Così fai tutti i regali che vuoi. Grazie. Buon Natale da Expert. Anche al centro commerciale Le Cotoniere. Expertsomma.it e seguici anche su Facebook. Nel pomeriggio sulle coste soleggiato ma con poche nudi sparsi. In montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni per domani. Al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni. In montagna parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni. In montagna parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. Eccoci con l'informazione sportiva. In primo piano la Salernitana è emergenza in centrocampo. Ronaldo si ferma per un infortunio alla Caviglia. La sua presenza con il Carpi è in forte dubbio. Bollini al suo esordio casalingo sulla panchina Granata conferma comunque il tridente sceglie schiavi in difesa della Rocca a centrocampo e in prota in attacco. Prima la febbre e adesso gli infortuni. La Salernitana perde pezzi ma Bollini spera di recuperarli. Tutti per la gara di sabato alla Reiki con il Carpi. Stamani si è fermato in box anche Ronaldo. Il playmaker brasiliano ha rimediato una botta alla caviglia e non ha preso parte alla seduta del lavoro che la squadra ha sostenuto al Campo Volpe. Lo staff medico si dice fiducioso di un recupero lampo del regista ma è chiaro a questo punto che la sua presenza contro il Carpi sia in forte dubbio. Al suo posto giocherebbe della Rocca centrale con Zito mezzala destra e busellato dalla parte opposta influenza permettendo. La Salernitana non ha mai vinto due gare di fila in campionato da quando è tornata in B sabato prossimo contro il Carpi. La squadra di Bollini ha una nuova occasione per infrangere il sortileggio e dare continuità al successo di Frosinone. Una vittoria che sarebbe importantissima in primis per la classifica e per il morale ma anche e soprattutto perché arriverebbe a pochi giorni dal derbissimo di Avellino. Prima della febbre del derby però, occhio alla febbre di stagione, busellato e vitale prima ancora della Rocca hanno già pagato Dazio. Tutti e tre comunque dovrebbero essere disponibili per sabato. Stesso discorso per Massimo Coda che si è allenato regolarmente dopo lo stop precauzionale di martedì scorso dovuto alle solite noie al ginocchio. I dubbi di Bollini si annidano invece a centrocampo complice lo stop inaspettato di Ronaldo in cabina di regia. Nel caso in cui il brasiliano non dovesse farcela Della Rocca sarebbe dirottato al centro con Zito confermato mezzala sinistra. Bollini all'esordio davanti al pubblico della Rechi non ha grosse possibilità di manovra. In mediana infatti il treno a Granata agli uomini contati se si considera pure l'indispodibilità di Auger. Il peperino ganese è fermo da circa un mese a causa dell'infortunio rimediato a Latina. I tempi di recupero stimati inizialmente in circa quattro settimane sono destinati ad allungarsi così come avevamo preannunciato. Auger non rientrerà prima del nuovo anno probabilmente contro lo Spezia alla ripresa il 21 gennaio. Un'assenza pesante che ha privato la Serenitana di uno dei pochi elementi in grado di assicurare dinamismo e intensità anche se in questa stagione il rendimento del centrocampista non è certo lo stesso della passata. Bollini lo aspetta intanto, pensa all'assetto della mediana per sabato. In difesa invece Perico e Vitale saranno i terzini e l'unica novità sarà rappresentata dal ritorno di Schiavi accanto a Bernardini complici la squalifica di Tuia e l'indisponibilità dell'infortunato Luis Felipe. In attacco si va verso la conferma del tridente composto da Rosina, Coda e Improta. Caccavallo proverà a insidiare l'ex del Cesena che però gode ancora di un certo margine di vantaggio anche perché assicura un apporto notevole in fase di copertura. Auguri doppi in casa salernitana. Claudio Lotito ieri ha preso parte al tradizionale scambio di auguri del club con un blitz in piena regola. Durante il discorso il patron ha chiesto subito la promozione in massima serie. Una sorpresa nella sorpresa la tradizionale festa di auguri della salernitana. Claudio Lotito ha rubato la scena durante la scena di Natale organizzata ieri dal club Granata nella splendida Villa Farina di Baronissi in provincia di Salerno. Un blitz in piena regola con tanto di discorso e immancabile taglio della torta. L'imperatore Claudio come sempre ha spiazzato tutti presentandosi a serata inoltrata accompagnato dall'immancabile scorta e lo ha fatto soprattutto nelle esternazioni complici la convivialità del momento ed anche il successo di Frosinone che ha reso l'atmosfera ancora più gioiosa. Tra una portata e l'altra menù a base di mare arriva pure il discorso all'uditorio con tanto di sorpresa appunto inaspettata. Secondo quanto riporta il collega Mauro Mazzarella infatti quando qualcuno tra i tavoli ha provato a stuzzicarlo invitandolo a portare la salernitana in massima serie per il centenario di fondazione del sudalizio Granata il 19 giugno 2019 l'imperatore Capitolino ha replicato distinto mi scusi ma perché non possiamo andarci quest'anno in serie A io voglio vincere subito noi siamo una società ambiziosa che punta sempre al massimo risultato le parole di Lotito echeggiavano nella sala come se fosse nel foro con gli invitati ancora più attenti ad ogni sillaba dell'oratore che ha proseguito quando siamo arrivati abbiamo preso l'impegno con la città di un programma quinquennale per tornare in B abbiamo raggiunto l'obiettivo con un anno d'anticipo ora vogliamo ben figurare puntando a vincere ogni partita immancabile l'accorato appello anche alla squadra mettete sempre massimo impegno e spirito di sacrificio per onorare la maglia che indossate e la città che rappresentate applausi a scena aperta brindisi, abbracci e foto di rito dopo gli appetizer due primi e due secondi è arrivato il tradizionale taglio della torta rigorosamente a tinte granata oltre allo stemma sociale sulla torta erano impresse le coreografie della Sud contro la Casertana il Bari ed il Pescara del 2008 la pubblicità ma restate con noi torniamo tra pochissimo chiudiamo con il calcio a 5 reduce dal KO Beffardo 4 a 5 subito con fondi negli istanti finali della gara giocata sabato scorso al Palatulimieri l'Alma Salerno si rituffa in campionato sabato prossimo alle 15 va in scena l'ultima gara del 2016 i calcettisti Granata allenati da Nando Mainenti saranno di scena a Roma e faranno visita al brillante Torino nella capitale non ci sarà il portiere Mimmo Marchesano era diffidato è stato ammonito per proteste e dovrà scontare un turno di squalifica lo ha già scontato sabato scorso invece l'attaccante Danilo Spisso che può così rientrare nei ranghi Mainenti potrà utilizzarlo atternandolo nelle rotazioni anche all'argentino Facundo Galilanes che ha già debutato sabato scorso col Fondi realizzando un gol sul calcio di punizione e confezionando due assist per le reti di Santoro e Vuolo l'Alma Salerno che aveva intravisto la possibilità di agganciare le zone medio-alte della graduatoria staziona adesso a quota 15 e deve evitare di perdere ulteriore terreno per non farsi risucchiare in zona play-out il Torino è secondo in classifica è tutto termina qui il nostro appuntamento con l'informazione grazie per essere stati con noi arrivederci vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand grazie per la visione